Mi riprovavamo in cinque anni dietro quando preparavamo il concorso, perché praticamente mi ha proposto di fare studiare questo pezzo e lo odiamo. Nel mese di luglio ho dovuto studiare con tutti i candidati, quindi grazie a Fabio, è stata bellissima, adesso mi sento più giovane. In effetti è più pesante prima, quando ci siamo messi in fare i primi voti. Ok, dopo le saximini, il saluto dedicato a Fabio, buona spada. Applausi Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti